Dovresti farti i complimenti. Hai appena recuperato dei codici top secret dal terminale di un senatore degli Stati Uniti. Il prossimo passo è trovare la torre di trasmissione più vicina, dalla quale inviare i dati ottenuti. Hai ufficialmente completato la prima metà della parte finale del procedimento. Cioè, ovviamente non potrò mai saperlo con certezza, ma sperare non costa nulla. Giusto?